Due parole anche con Sean Storruck, ovviamente in inglese. Siamo arrivati, abbiamo fatto un buon start, fortunatamente abbiamo rilassato un po' al fine della seconda quattro e abbiamo fatto un lead e non siamo tornati in. Abbiamo solo tornato il ballo e abbiamo scoperto troppo scopo. Il ballo non voleva andare in, quindi era molto difficile da giocare, perché la sensazione del match era molto difficile. Sì, stiamo creando grandi scopi e quando hai le scopi e le scopi, hai bisogno di farlo. Se non, hai bisogno, hai bisogno di farlo. E noi non abbiamo fatto, quindi siamo dopo la perdita. Grazie.